Ecco questo, riusciamo a dire la sorveglianza, scialoia. Aspetta, Rizzo, avranno pure fatto qualcos'altro prima di accorgersene, no? Eccomelo, guarda. Sono usciti, sono tornati a casa. Usciti, tornati. Usciti, tornati. Aspetta, 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 guarda, guarda qui, guarda. Si sono incontrati tutti al bar. Eh? Il loro punto di ritrovo. Forse, non lo so, probabilmente decidevano qualcosa. Decidevano come prenderci per il culo. Svegliati, scialoia. Questa sorveglianza non serve a niente, niente droga, niente armi, niente latitanti. Se continua così, io do forfè. I miei uomini mi impiego meglio. Questa qui deve essere incensurata, perché la sua foto non è nei nostri archivi. Adesso, sarà una cliente. Scialoia, sentimi, smettila di inseguire fantasmi. Rischi di perdere la faccia. Senti, dammi solo un altro po' di tempo. E come succede qualcosa, fammi sapere, va bene? Guarda, appena esco e tornano in casa, io ti chiamo subito.